È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna il bambino di 13 mesi che questa mattina intorno alle 10 è stato trovato esanime nel cortile di una villetta schiera di Soliera nel Modenese. Il piccolo sarebbe stato solo in casa con la babysitter che a quanto si apprende sarebbe una 34enne italiana. I carabinieri che indagano, coordinati dalla procura di Modena, l'hanno accompagnata in caserma per accertamenti a chiamare i soccorsi sul posto 118 con l'elicottero alcuni vicini che avrebbero notato il corpo per terra. Hanno detto che il bambino era coricato lì su un fianco sulla palaziana e non piangeva. Bambino molto vivace, molto vitale purtroppo. C'è il più stretto riservo sulle indagini che stanno tentando di ricostruire l'accaduto ma a quanto si apprende il piccolo sarebbe caduto da un'altezza di circa 3 metri. Allora vi devo subito dare un aggiornamento. Ultima ora è stata fermata la babysitter di 32 anni che questa mattina intorno alle 10 si trovava in casa con un bimbo di 13 mesi caduto dal secondo piano a Soliera. Siamo in provincia di Modena. L'agenzia Anza dice dopo un interrogatorio all'interno della caserma dei carabinieri di Soliera al quale ha preso parte anche il PM la donna è uscita sull'auto dei militari. È indagata per tentato omicidio quindi è stata fermata con l'accusa di tentato omicidio. Questa babysitter di 32 anni sarebbe stata lei da quello che viene ricostruita e che riportano le agenzie ad aver fatto cadere il bambino dall'alto. Pare, pare da una finestra. Andiamo subito in diretta a Giuseppe Di Tommaso. Siamo all'ospedale maggiore di dove il piccolo è ricoverato e come abbiamo detto prima lotta tra la vita e la morte. Quali sono le ultime informazioni dopo questa notizia di qualche istante fa? È in gravissime condizioni. Proprio in questo padiglione alle mie spalle si trova qui la lotta tra la vita e la morte. Il piccolo Tommaso, questo è il nome del bambino di 13 mesi che questa mattina è caduto, pare da una finestra al secondo piano della palazzina dove viveva. All'interno c'era la babysitter, questa donna che ora è indagata per tentato omicidio. Non è chiaro ancora come abbia fatto il bambino ad arrampicarsi alla finestra perché questo il dubbio che resta ora da chiarire o sarà stato secondo alcuni e secondo le prime indiscrezioni che arrivano proprio dalla procura di Modena ha aiutato ad avvicinarsi a quella finestra e poi cadere nel giardino dove è stato ritrovato dalla vicina. Erano circa le 10 e 15 di questa mattina. Sono i dubbi che stanno cercando di chiarire, di chiarire gli inquirenti. Intanto i familiari sono qui, chiusi nel dolore. Pregano, sperano che il bambino si riprenda e che i medici riescono a fare un vero e proprio miracolo perché questo, quello che adesso ci hanno riferito, il bambino è davvero in gravi condizioni con ferite multiple e soprattutto lotta ogni minuto tra la vita e la morte. Allora, da quello che viene ricostruito, questo bimbo era stato affidato alla babysitter in casa c'era probabilmente da quello che abbiamo compreso un'altra signora delle pulizie. I genitori erano al lavoro. Parliamo delle 10 di questa mattina. A un certo punto questo piccolo, pensate, di soli 13 mesi fa un volo dal secondo piano della casa di famiglia. La vicina del piano di sotto lo ritrova nel giardino in condizioni già gravissime. Allora, poco fa, la babysitter di 32 anni che lo aveva in custodia è stata fermata con l'accusa appunto di tentato omicidio. Ma cosa sappiamo, Giuseppe Tommaso? Ricordiamo che il piccolo è stato subito portato lì all'ospedale maggiore è in progno riservata, rischia la vita. Cosa sappiamo di questi due genitori? Io non posso che pensare a loro in questo momento. Immaginate, danno in custodia il proprio figlio per andare a lavorare e poi accade quello che vi stiamo drammaticamente raccontando. Dimmi, Giuseppe. Alberto, sono distrutti, distrutti dal dolore perché erano convinti di aver affidato il loro piccolo ad una persona di fiducia. Tra l'altro abbiamo saputo che questa donna di 34 anni, cioè la babysitter che si trovava all'interno dell'appartamento da dove è caduto il piccolo, ora accusato di tentato omicidio, era già conosciuta dalla famiglia perché era stata la badante del nonno del piccolo Tommaso, del bambino che ora ha un lotta tra la vita e la morte. Quindi si fidavano ciecamente di questa donna. Ecco perché sono sconvolti e continuano a ripetere qui all'interno dell'ospedale maggiore perché è successa questa disgrazia, perché proprio al nostro piccolo. Un abbraccio, un grande bocca al lupo a questi genitori, siamo molto vicini a loro.